I got that power, I got that power, I got that power, power, power Let's go bitches, 9000 Let's go bitches, tralasciando questa intro siamo arrivati sopra i 9000 iscritti e non ci stiamo fermando Cioè in due settimane abbiamo fatto più di 3000 iscritti e stiamo andando sempre più avanti Cazzo andiamo avanti così Comunque ho fatto questo breve video perché sono ancora malato, in stato comatoso come lo volete chiamare Comunque appena riuscirò farò un fuck time, lo farò per i 10.000 iscritti comunque E per il resto ora vi presenterò video di nuovi giochi come per esempio Battlefield, FIFA eccetera eccetera su One Perché non sto facendo scrim, non sto facendo tornei su COD? Perché non ce ne sono al momento e tra l'altro il mio team non ha comprato ancora la One Quindi dovrò aspettare che loro la prenderanno per giocarci E sinceramente per ora questo Call of Duty, mi sono corretto avete visto? Sta deludendo abbastanza Quindi spero che con i nuovi aggiornamenti e i nuovi DLC e Sports che hanno detto il competitive lo migliorino Perché se no forse segnerà la fine del competitive per Call of Duty Questo perché lo dico? Perché secondo me potrebbe essere così Comunque vi lascio al resto del video ragazzi Che è un piccolo montaggio che ho fatto io riguardante le cam che ho fatto su Strike Zone in generale Ne ho prese alcune così a buffo Giusto per darvi un quadro generale Le ho montate assieme per fare un cam page come l'ho voluto chiamare Spero che sia divertente sentire le voci e guardare il gameplay di esplosioni in continuazione Cioè la mappa veramente annichilita Bella raga Oh my goodness Grazie a tutti. 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 Mi devo fare uccidere però. Mi devo fare uccidere però. Mi ammazzo nessuno mi fa. Mi devo fare uccidere. 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 Chi ce l'ha un'altra game?